Ciao, sono Valeria, frequento l'Accademia il terzo anno e il titolo del mio corto è Il vaso. Allora, l'idea del cortometraggio è nata da una situazione semplicissima. Io stessa, quando ero adolescente, conservavo tanti oggetti che potessero ricordare comunque un viaggio, un'esperienza o anche un legame o di amicizia o di amore. All'interno del mio cortometraggio la protagonista cerca comunque di rielaborare il lutto, interiorizzando e facendo propri dei comportamenti che erano tipici del padre. Sono soddisfatta del mio lavoro perché sono riuscita a trasmettere qualcosa ai personaggi della storia e me ne sono resa conto appunto guardando il girato. I momenti più emozionanti di tutto questo progetto sono state, vabbè, prima di tutto la scrittura e il vedere come questa storia nasceva e prendeva forma e in secondo luogo il confronto con i protagonisti, quindi il lavoro che è stato fatto prima delle riprese effettive. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.